Conosco le difficoltà, se io dicessi che mio figlio si sveglia al mattino dicendomi dov'è il correre della sera, mentirei. Oltretutto c'è un aspetto, io credo che avere un padre che scrive la casa piena di libri, un giorno siamo messi lì, siamo circondati di libri fa, certo mi ha guardato intorno e mi fa, che pensandoci quando saranno, sono un po' oppressivi dice, e io li avrò tutti intorno e non avrò neanche il coraggio di buttarli via, mi ha fatto anche tenerezza perché è veramente, quindi io non ho dubbi, il vero modo, ma questa è una cosa privata che tengo, vale anche per voi perché se voi comunque fate un lavoro intellettuale anche voi, avrete figli anche voi, io credo che la grande ricetta sarebbe, se io diventasse come Fabrizio Corona mio figlio studierebbe, leggerebbe tutti i libri della casa per farmi dispetto, ma è uno sforzo troppo grande. No, ci credo, io credo profondamente a questo. In compenso un bellissimo ragazzo è pieno di fidanzato, quindi lui è tranquillissimo. Allora, cervello, anatomia giornalistica, cominciamo col cervello, la prima cosa da decidere è quale giornalismo volete, quello che non ha amici e nemici a scatola chiusa oppure quello che combatte una battaglia politica, religiosa, economica, sportiva, difende comunque gli amici e picchia sempre duro sui nemici. Guardate che non è una risposta facile, la risposta retorica è ma certo vogliamo il primo, indipendente, alt, io ve lo dico subito, se leggete un po' in fondo il Corriere della Sera è la nostra ingenua speranza che il giornalismo sia veramente questa cosa qua, adesso arriviamo appunto, però guardate che non è per nulla detto. Il giornalismo di secondo tipo, quindi il giornalismo che combatte una battaglia, politica, religiosa, economica, sportiva, va molto forte. Molti media hanno rinunciato a essere un contropotere quando hanno capito che il pubblico vuole leggere, ascoltare e vedere solo chi gli dà ragione. Sempre più gente non vuole dubbi con la prima colazione, pretende confermere assicurazione, lo stesso a cena col telegiornale. Nel meccanismo complesso di una democrazia i quotidiani sono invece un necessario contrappeso. C'era Thomas Jefferson, presidente americano, che tra l'altro ha inventato un sacco di roba, era un individuo incredibile, aveva inventato una forma di fotocopiatrice in cui lui scriveva con una penna e ne aveva legata un'altra e ne faceva due coppie, personaggio. E lui disse, dovessi scegliere tra un governo senza giornali e giornali senza un governo, non esiterei un momento a scegliere questa seconda soluzione, quindi i giornali senza governo. Questo è un paradosso però. Basta ricordare questo, il potere non ama essere criticato. Nelle democrazie deve sopportarlo, nelle autocrazie e nelle dittature riesce a impedirlo. Quindi usate il cervello. Leggendo un giornale siate scettici, non cinici eh? È molto diverso. Scettici. E insegnate ai ragazzi a essere scettici. Di solito non cinici. Scettici. È diverso. È una bella impostazione mentale. E chiedetevi, è credibile? Se appartiene alla famiglia del capo del governo, come valuterà l'operato del governo? Se si dichiara d'opposizione, non rischia di osteggiare il governo per partito preso? Qualunque cosa fa il governo non va bene. Se appartiene ai vescovi, come parlerà della chiesa? Se fra i suoi azionisti ci sono banche e costruttori, come tratterà i loro affari? Quindi ci stiamo dentro anche noi. Se i lettori sono tifosi della squadra J, Jolly, a caso, ho scelto uno a caso. Come valutare i giudizi sulla squadra rivale Ipsi, se non Z o I? Badate bene, l'onestà intellettuale del direttore di testate e dei giornalisti può superare questi ostacoli. Noi al Corriere ci illudiamo di poterlo fare e di provare a farlo. Ma alcuni colleghi non ci provano nemmeno. L'onestà intellettuale la chiamano ipocrisia, lo schieramento preventivo lo chiamano coerenza. Allora, voi dovete decidere e parlare con i ragazzi perché non è detto. Qui stiamo parlando di due modelli diversi. Guardate che il secondo va fortissimo. In America, perché non ci sono solo i giornali, i media c'è la televisione, che sta facendo soldi, successo e ascolti, non è CNN che ha un po' questa impostazione, è Fox News che ha deciso che è repubblicana e picchia duro. Obama è il male. Qualunque cosa faccia pover uomo. Qualcuno dice è così. Il potere è lì e dobbiamo... Poi ovviamente se il potere fosse loro cambierebbe, però guardate che questa cosa va forte. Gli esempi italiani sono talmente numerosi che non ve li devo neanche fare. No, è inutile, non siamo qua. Però mi sembra molto evidente. Vi ho fatto l'elenco e non ci ho girato intorno. Insomma, vi ho spiegato. Però decidete. Prima fate ragionare i ragazzi su questo punto. Se no, si gira a vanvera. Lingua. Dal cervello alla lingua. La scrittura all'inizio del ventunesimo secolo riveste la stessa importanza che aveva nel ventesimo... nel diciannovesimo secolo. A metà del diciannovesimo secolo, quando non esisteva il telefono. La nostra vita personale, professionale, sociale, e sentimentale passa oggi attraverso la posta elettronica. Un'email ben scritta può avere magnifiche conseguenze. Un'altra, equivoca e sciatta, rischia di provocare guai. Noi giornalisti abbiamo in sostanza un dovere in più. L'esempio. Chi legge e chi scrive oggi deve ricordare le parole. Mi è piaciuto molto Michela Murgia, che ha vinto il Campiello 2010, passato alla storia per la scollatura della povera Silvia Vallone, che ho visto ed erano... siamo visti a Francoforte e alla Bookmess, siamo stati insieme alla sera a chiacchierare, sul ponte del Francoforte, che passa sul meno, alle unici e mezza, mi dice Beppe, io ti ringrazio, lei era una mia lettrice, mi ha detto, da quando ero un ragazzino, dal liceo, mi ha detto piacere, ti ringrazio, sai che sono le unici e mezza e tu non mi hai ancora parlato della scollatura? E gli ho detto, ma scusa, sei una donna intelligente, giovane, brava, hai scritto un gran libro, Acciaio è un gran libro, forte, pieno di storia, ti devo parlare della scollatura, non vedo perché, eccetera. Comunque, Michela Murgia ha vinto il Campiello 2010, ha detto, io lavoro con le parole, ho il dovere di utilizzare quelle giuste e questo secondo me è una cosa che alcuni di noi giornalisti dimenticano. La chiarezza non è un optional, come il tettuccio apribile sulle automobili, è un comandamento. Montanelli sopportava tutto meno di sentirsi dire da noi, il lettore XY non ha capito, se non ha capito ci diceva e alzava la voce, vuol dire che noi ci siamo spiegati male, siamo stati confusi, noiosi, prevedibili, retorici, ripetitivi, quindi per definizione se un ragazzo non capisce un articolo la colpa è mia, non è sua. Aveva mal di testa, pensava alla ragazza, gli suonava il telefonino, chi se ne frega, devo essere abbastanza bravo da sedurlo, ma sedurlo è una bella parola, cioè da appassionarlo, interessarlo abbastanza, se non sono capace devo cambiare il mestiere. Un ragazzo ha la sua testa, ma uno che va lì, sta prendendo il tram, c'è uno che lo spinge, è compagnia bella, ha fretta, quindi noi abbiamo contro la vita della la gente, che non è solo leggere gli articoli.